Vuoi una Rolls Royce? Non vieni a cercarla qui, no, no. Vai in Inghilterra dove cazzo la fabbricano. Se vuoi champagne vai a trovare i francesi. Se ti servono soldi vai da un ebreo. Ma se cerchi la merda, il lirciume che sta nascosto da qualche parte o qualche segreto che non si vuol far sapere a nessuno, allora è questo il posto adatto. È proprio qua, a Hell's Kitchen. Questo ufficio oggetti smarriti della merda. Loro la perdono e noi la troviamo. Meglio che lasci perdere. Adesso hai solo due testimoni disposti a deporre. Altri due ci hanno ripensato. Quali due? I due signori al bar. Resta ancora la coppia al tavolo? Per ora. Tutto il resto sta andando a posto? Tutto tranne il tuo testimone. E la casella è ancora vuota. Lo so. Quando ti hanno spedito dentro, mi è sempre dispiaciuto non poter fare di più per te. Non sapevo che amassi tanto i piccioni. Io amo tutte le cose che non parlano. Michael aveva le idee molto chiare su come incanalare la causa. Mirava alla colpevolezza. Un verdetto di colpevolezza contro il riformatorio Wilkinson, contro Sean Knox, Adam Styler, Henry Addison e Ralph Ferguson. Presenterò prove e offrirò testimonianze in loro appoggio per dimostrarlo. Proverò la loro colpevolezza. Porterò...